È un'iniziativa bellissima e quando sono stato contattato per questa iniziativa sono rimasto veramente felice, uno perché tutti gli anni noi in Calibario lo facciamo, quest'anno poterlo fare con le foto di Cettino Beneduti, un'artista internazionale, è qualcosa che ovviamente fa la differenza. E poi invece in seconda battuta, che è la cosa secondo me più importante, facendo riferimento anche allo statuto della Coce Bianca, l'articolo 2, fa riferimento che la Coce Bianca è un luogo di aggregazione e integrazione, secondo me abbiamo centrato in chielo il punto. Infatti collaborando con queste cooperative, che ringrazio, alcuni ragazzi si sono fatti il loro corso da volontari del soccorso e a breve li vedremo con la nostra divisa, andranno ad aiutare i cittadini imperiesi integrandosi veramente in quello che speriamo sia l'obiettivo del progetto finale. Ecco, diciamo che quest'operazione del calendario, come dicevamo prima, servirà ad acquistare cosa? Allora, ovviamente lo scopo del calendario è quello di riuscire ad acquistare un defibrillatore, un defibrillatore che è uno strumento di salvavita che serve a tutte le ambulanze, è uno strumento molto costoso e speriamo appunto tramite l'offerta di questi calendari di riuscire a raggiungerla. Tra l'altro, lasciatemi dire che noi saremo qua per tutta la manifestazione di Olio Oliva con il banchetto appunto per quelli che vorranno prendere questo calendario, tutte i mattini dalle 9 alle 12 e i pomeriggi dalle 15 alle 18. Ci saranno i nostri volontari del gruppo giovani che distruggeranno appunto i calendari ed offerta minima e negativa sui 10 euro.